Ci siamo occupati già dal 15 di gennaio dei nostri clienti, aggiungo qualche numero, che sono circa 70.000, dei nostri colleghi che saranno poco meno di 150, perché alla fine poi dietro ogni operazione del genere ci sono le persone. Allora abbiamo pensato, lato dipendenti, a cercare di portarli a bordo il più velocemente possibile con una serie di iniziative, newsletter, videochiamate, possibilità anche di dialogare a distanza con le nostre strutture centrali per chiedere informazioni e prepararsi all'evento e anche con attività formative che abbiamo già avviato. Lato clienti, abbiamo cercato di dialogare con loro non solo nella maniera, come devo dire, obbligatoria, ciò che la normativa ci imponeva in termini di manovre unilaterali, ma anche in termini di spiegazione di quello che stavamo facendo, di quali fossero le necessità coinvolte e quindi cercando di parlare con loro e anche ascoltare loro, perché da metà marzo abbiamo aperto un canale sul nostro sito web in cui già 100 clienti hanno fatto domande e hanno ricevuto risposte. Abbiamo lavorato anche cercando di limitare al minimo i disagi in termini di cambiamenti che potessero avere questi clienti. Cito due esempi molto importanti. Uno, le carte di debito e prepagate. Esistono circa 35.000 carte di debito e prepagate che, come si dice, termineranno la propria operatività il giorno 24 di maggio perché sono della Exubi. Allora, onde evitare a questi clienti il disagio di venire in filiale e riemetterle, noi abbiamo fatto un investimento con Nexi affinché venissero riemesse e consegnate ai clienti prima del 23 di maggio. Ad oggi abbiamo consegnato quasi il 90% di queste carte, anzi colgo l'occasione per chi ci ascolta di dire alcune carte sono state consegnate ma oggi già ci sono presso poste italiane per assenza del destinatario quindi andate a ritirarle in maniera tale da poterne subito usufruire. L'altro esempio che faccio sono i canali di internet banking. Abbiamo cercato di semplificare la vita ai privati e alle imprese in maniera tale da non avere complicazioni nel cambio credenziali. Chiunque si scarichi l'app di Intesa San Paolo prima del 23 di maggio potrà accedere con le vecchie credenziali e passare alla nostra nuova app prima e l'altro il digital corporate banking. Le grandi aziende che oggi usano questo servizio lo avranno in continuità presso di noi.